Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina parliamo di sociale, lo facciamo con rappresentanti dell'ACLI di Padova, realtà che in occasione del cambio di sede ha avuto anche modo di evidenziare, ricordare, fare un po' il bilancio dei progetti che ci sono in essere. La nostra puntata sarà articolata in due parti, due interviste, la prima, Massimiliano Monterosso, che ho già qui con me in studio, responsabile di Rete Solida, e poi nella seconda parte della trasmissione avremo Francesca Scudiero, che è responsabile di altri progetti, tra cui Insieme Digitali. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Prima di entrare, come si dice, in medias res del progetto che lei cura, sentiamo Don Luca Facco e Gianni Cremonese, che è presidente di ACLI Padova, per fare un po' il punto dello stato d'essere delle cose della vostra realtà. Sono qui a nome del Vescomo, proprio per ringraziare le ACLI, il suo presidente Gianni Cremonese, per il grande lavoro che in questi più di 75 anni stanno compiendo nel nostro territorio a Padova. La gratitudine per aver scelto anche di essere presenti in questo contesto, che è un contesto fragile, delicato, della nostra città, ma è con una presenza proprio attiva e propositiva, per cui il degrado lo si combatte, lo si vince sempre essendo presenti nei territori, vivendo il territorio. E poi le ACLI sono proprio un'associazione di lavoratori e mai come oggi è importante continuare ad essere un pungolo e una proposta proprio al governo perché ci sia un lavoro dignitoso per tutti, in particolare per le persone fragili. Che il lavoro sia veramente lo strumento che ci aiuta ad essere cittadini, consapevoli, attivi e costanti, soprattutto in questi momenti anche di grande complessità. Per cui un grande augurio alle ACLI di buona continuazione di lavoro. Abbiamo scelto di spostarci da Via Bonarotti a Via Foscolo per un motivo molto semplice. da una parte per avere la possibilità di lavorare in termini, in luoghi più spaziosi e quindi avere la possibilità di concertare tutta una serie di azioni con un po' di respiro. Non solo, abbiamo scelto anche di spostarci in una zona sulla quale insiste un progetto del Comune, un progetto di rigenerazione urbana, alla quale con tutte le nostre iniziative pensiamo anche di dare risposta, ma il significato vero e proprio dello spostamento sta anche in una tentativa di cambiare rotta all'associazione che pur restando fermi i principi ispiratori, cerca di adeguare le risposte ai bisogni che sempre più in maniera pressante vengono avanti, bisogni diversi, proprio perché i tempi che abbiamo, che viviamo, sono molto complessi. Abbiamo sentito il Presidente di ACLI Padova, le ACLI sono delle associazioni sociali di volontariato, di matrice cattolica. A cosa si riferisce quando dice che bisogna un po', pur mantenendo i principi fondanti, cambiare direzione? Bisogna agire in maniera più concreta? Credo che per un'associazione come ACLI che ha 75 e rotti anni sia inevitabile dover ogni tanto tenere o cambiare un attimino la rotta per adeguarsi a quelle che sono un po' le necessità della società. Il percorso delle ACLI è declinato anche in maniera molto diversa a seconda dei territori a livello nazionale e anche in giro per tutto il mondo. Seconda anche dell'esigenza? Esatto, ma a seconda anche della storia, alcune cose, e proprio perché le ACLI nascono come associazione generalista, poi ogni territorio decide di declinare un po' la propria azione a seconda di quelle che possono essere le intuizioni delle persone che partecipano ai lavori dell'associazione in quel momento lì, oppure anche rispetto a quelle che sono effettivamente le richieste del territorio. A Padova, ormai da anni, abbiamo intrapreso una serie di progettualità che vanno a sviluppare un'attività direttamente nell'ambito del sociale, quindi non solo come associazione provinciale che coordina quelli che possono essere i circoli e altre attività, perché poi anche qui le ACLI sono associazioni che hanno vari livelli, no? È strutturata. È strutturata, cioè nazionale, regionale, provinciale, via dicendo. Però essere promotori anche proprio come associazione provinciale di progetti, attività in prima persona dove mettere mano a quello che si può fare rispetto un po' ai bisogni delle persone. Lei, nella fattispecie, è il responsabile del progetto Rete Solida. Già la denominazione Rete Solida dà un'idea di azione, di concretezza, di agire laddove serve. Prima appunto c'era riferimento garantire un lavoro a tutti, soprattutto coloro che rappresentano le fasce deboli. Che cos'è Rete Solida? Allora, Rete Solida intanto è un progetto che ormai ha quasi 15 anni e che è un acronimo che sta per relazioni territorio-economia, solidarietà e ambiente. Ed è tutto un insieme di pratiche, relazioni, prassi, procedure, tecniche per riuscire a mettere in contatto tutte quelle realtà del mondo economico che per qualsiasi motivo oggi hanno delle eccedenze, soprattutto nell'ambito alimentare, ma non esclusivamente, con tutta quella rete appunto molto estesa che per fortuna a Padua in provincia c'è ed è viva ed è molto attiva di realtà di volontariato a tal settore, enti religiosi, cooperative e quant'altro che danno un supporto alle persone che hanno bisogno. Quindi distribuzione di alimenti in primis? Sì, allora sostanzialmente noi intercettiamo quello che qualcuno butterebbe via e troviamo il modo di distribuirlo a chi poi effettivamente lo fa arrivare alle persone. Vedete così, è un po' semplice, in realtà poi la cosa è stratificata ed è complessa proprio perché tutto è gestito il più possibile in tempo reale, senza attività di stoccaggio, per cui non andiamo in giro a raccogliere la ova, la portiamo a casa e qualcuno poi verrà a prenderla, ma il tutto è gestito dove si genera lo spreco, viene fatto il recupero e viene fatta la distribuzione. in varie filiere, quindi la filiera della ristorazione collettiva, quindi le messe scolastiche, la grande distribuzione, quindi i prodotti dei supermercati prossimi alla scadenza che invece di essere buttati vengono donati, la produzione agricola, per cui grandi carichi di prodotti oltre frutticoli che arrivano e che piuttosto di essere destinati al macero vengono digestiti. Il tutto con appunto una rete fitta di realtà, siamo una cinquantina di associazioni che fanno capo alla rete e con numeri anche importanti rispetto a quello che poi sono i chili di prodotti recuperati e le persone raggiunte. Che numeri sono? Tanto per farci capire, poi queste eccedenze, quello che sarebbe uno spreco, viene comunque donato o negli anni state notando che, penso magari alle eccedenze della grande distribuzione, diceva che è in scadenza, invece che donarlo magari lo metto in sottocosto. Questo accade oppure continua a esserci quella giusta generosità, il cosiddetto pane sospeso, il caffè sospeso? Perché quella è una cosa in realtà un po' diversa, quindi quella è qualcuno che decide di offrire, quindi in realtà è una donazione di privati più che delle ditte. Sulle ditte le politiche commerciali delle singole entità possono essere varie, tant'è che appunto ci sono realtà della grande distribuzione che da anni hanno deciso di attivare percorsi di questo tipo in tutti i punti vendita e si sono adoperati per mettere in atto questa cosa, ci sono altri che non hanno ancora fatto nulla, ci sono altri che non hanno, come dire, ancora scoperchiato un po' il problema e partono dal presupposto che loro non buttano via niente, cosa impossibile perché lo fanno tutti, c'è chi fa gli sconti nell'ultimo minuto, ma poi quelle sono giustamente pratiche. Certo, certo, volevo capire se comunque si mantiene questa solidarietà anche perché comunque stiamo vivendo momenti forse più difficili di qualche anno fa. Ma insomma sono difficili forse in maniera diversa perché poi le difficoltà, ovviamente poi il periodo del Covid ha acuito un po' tutte le varie problematiche, però sì, quando noi abbiamo iniziato prima nel 2008 con la parte della ristorazione collettiva, dal 2012 con la grande distribuzione, nel 2014 con le attività dell'agricoltura, il tal bisogno c'era anche allora, quindi poi forse sono bisogni che mutano, si consolide, ma di persone che per un motivo o per l'altro si trovano a dover decidere se prendere il prodotto A piuttosto che il prodotto B e saltare il prodotto C che magari è la frutta fresca, la cosa che perché non arrivano a fine mese, c'erano loro come ci sono anche oggi, in maniera diversa, poi qui ecco non stiamo a dare statistiche. Ma numericamente sono aumentati, sono diminuiti. Allora su questo in realtà poi i rapporti che fanno la Caritas, come la Caritas, danno comunque atto di una povertà più diffusa e una povertà diversa perché anche quella è un mutamento. Ecco, noi in realtà rispetto al lavoro di Rete Solida ci fermiamo un attimino prima, nel senso che poi il contatto diretto con le persone che hanno bisogno viene demandato tra virgolette agli enti terminali del territorio. Quindi voi intercettate le fonti da cui reperire il materiale e poi vi occupate proprio di ridurre la filiera al massimo in modo che il prodotto arrivi in uno stato integro all'utilizzatore finale. Perché possa arrivare? Per cui ad esempio l'associazione X di un territorio che fa attività di distribuzione che magari l'ha sempre fatta facendo una colletta, per cui comprando prodotti, facendo stoccaggio, facendo la distribuzione una volta al mese, può aggiungere a questo lavoro che comunque è importantissimo anche la possibilità di ricevere altri prodotti gratuitamente da integrare rispetto alla loro distribuzione. Che può essere la frutta fresca due volte al mese, che può essere il prodotto una volta la stimola dal supermercato magari vicino, che fino all'altro giorno il prodotto magari lo buttava via. Altri compiti di Rete Solida? Beh allora, su questo, in realtà poi lavorando molto con il territorio, siamo un pochino anche antenne rispetto a quelle che possono essere le esigenze che si vanno a creare rispetto magari a nuove modalità di raccolta, per cui poi il fatto di avere una rete così estesa che è in grado anche di gestire quantitativi importanti e anche particolari di prodotti eccetera, sempre di più ci porta ad essere in grado di intercettare anche donazioni magari di aziende dell'industria alimentare, quindi produttori che per una partita sballata, per un ordine saltato eccetera, si trovano ad avere dall'oggi al domani grossi quantitativi che non riescono a gestire e che riusciamo a mettere in circo. Prima accennavo un po' i numeri, poi non li abbiamo detti. Quest'anno in tre giorni abbiamo smaltito due tonnellate e mezzo di polpette surgelate che sono arrivate, che sono prodotti che tra l'altro poi, insomma, estremamente di pregio di una ditta qua del Padovano, ma così come altri prodotti fresco da frigo, giusto per se non sbaglio state intervenendo anche adesso, no? Perché poi si calcola ogni disastro a tante sfaccettature, lei prima mi diceva che ci sono degli invi, no? Dall'Emilia Romagna di un materiale che si rischia... Sì, questa è un po' la novità di stamattina, in realtà adesso non so se e quanto riusciremo a intervenire, però ad esempio anche lì la logistica dell'Emilia Romagna è a fronte appunto del disastro eccetera, tutti i prodotti che magari erano in celle che sono state spente perché non c'è la corrente eccetera, piuttosto che i bottelli via li rigirano nelle regioni con termini, però sono prodotti che magari non sono più adatti alla vendita, per cui anche qua si vede... Certo, però la filosofia è evitare lo spreco. Certo, certo. Giusto per dare due numeri, noi nel 2022 abbiamo recuperato 360 mila chili di prodotti, che vuol dire, tradotto i soldini, che poi sono numeri così grandi che uno fa fatica a quantificare... Vuol dire aver dato da mangiare anche a molte persone? Vuol dire aver raggiunto circa 15 mila persone e vuol dire aver messo in circuito circa 2 milioni di euro di prodotti che sarebbero stati buttati via, quindi un guadagno netto rispetto a quella che è la donazione e un guadagno indotto rispetto a quelli che sarebbero stati i costi di smaltimento, quindi quei 2 milioni sono 2 milioni erotti, senza contare, poi l'impatto ambientale, perché comunque sono prodotti che non devono essere prodotti di due volte, quindi... e l'aspetto ambientale è una delle declinazioni del progetto, tant'è che all'inizio sempre più... Sempre più etico, se vogliamo. Sempre più etico, ma sempre più verso anche una neutralità, è assolutamente essenziale, tant'è che adesso, proprio l'altro ieri eravamo al forum per le iniziative di Padova come città a emissioni neutrali per il 23enne, quindi su questa cosa qui in realtà poi è estremamente interconnessa, e torno ancora un po' al tema della rete, che siamo e possiamo e dovremmo essere sempre di più su molti tavoli, perché questa cosa qui riguarda, diciamo, ai settori di un comune, riguarda l'ambiente, riguarda il commercio, riguarda il sociale, riguarda la scuola... Sì, è tutto interconnesso. È assolutamente, ed è sempre, e questo è appunto uno dei lavori di Rete Solide, è quello di, come dire, suonare sempre un po' la campanella, per dire ragazzi, guardate che facciamo una cosa, ricordiamoci che magari potrebbe anche esserci qualcosa che avanza, pensiamo a una seconda vita del prodotto, cerchiamo magari di fare le cose, e quindi tutta l'attività formativa e informativa che va a contorno, prima, durante e dopo delle attività del progetto, che tra l'altro è una delle cose che da sempre è nelle corde di Acli, è sicuramente cosa essenziale, quindi andiamo nelle scuole, facciamo attività di promozione, incontri, informazione, quindi insomma è un po' una cosa a 360 gradi. E qual è la risposta? Stiamo vivendo un mondo, no? Si è fatta tanta riflessione, cito sempre il Covid, quegli anni di pandemia, molti... saremo tutti più buoni o saremo tutti più cattivi. Da un punto di vista proprio del vostro osservatorio, della vostra attività, che cosa potete evidenziare? Anche per poi orientare verso nuove direzioni la vostra attività stessa. Beh, allora, devo dire che in estremissima sintesi quello che vediamo e quello che percepiamo è comunque una... per fare proprio una sintesi estrema a un sacco di gente che ci vuole bene. Questo perché fare questo tipo di attività toglie un po' di castagna dal fuoco per i donatori che altrimenti avranno un problema, porta risorse quasi dal nulla a realtà che fanno... e alla fine non ci sono oggi grossi effetti collaterali rispetto a questo tipo di attività. Se non il fatto di essere un po' al pungolo, magari all'amministrazione e altre cose, per cercare di portare un po' questi temi in primo piano. Poi, come futuro e come prospettive, sicuramente si può fare di più, sicuramente si può fare di meglio. Quindi una cosa che io dico sempre è che un progetto come questo funziona se se ne prende carico l'intero territorio, per cui le aziende che producono non possono essere parte. Chi fa il commercio deve avere un'idea... Proprio perché, bene o male, per mille motivi che non stiamo qui a vedere, c'è comunque sempre qualcosina che avanza, qualcosa che non viene, qualche imprevisto, qualche cosa. Quindi essere in grado di gestire questa cosa qui e per, come dire, una visione che è etica ma di dignità, alla fine riuscire a avere queste risorse per poterle girare a chi, per un motivo o per l'altro, almeno fortunato, eccetera, credo che sia solo doveroso. Io con questa riflessione la ringrazio, ringrazio Massimiliano Monterosso e subito dopo diamo spazio a un'altra rappresentante di Acli Padua per parlare di altri progetti. A tra poco. Siamo tornati in studio, stavamo parlando dei progetti di Acli Padua e d'ora continuiamo su questo tema con Francesca Scudiero. Buongiorno e benvenuta. Lei è responsabile di vari progetti in corso da parte di Acli Padua e l'ha fatto in spazio Insieme Digitali. Di che cosa si tratta? Sì, in realtà sono, diciamo, referente di Insieme Digitali e poi partecipo ad altri progetti. Ecco, non mi prendo i meriti di tutto. Diciamo che Insieme Digitali è questo progetto nato anche grazie alla collaborazione del Comune di Padua, del settore servizi sociali, che vede la sua origine ad ottobre del 2021, cercando di rispondere ad alcune esigenze della popolazione, in particolare inizialmente anziana, rispetto alla necessità di ricevere supporto nell'affrontare la burocrazia digitale, ma anche di essere accompagnati nell'orientamento e l'accesso dei servizi del territorio, che possono essere dislocati in modo frammentato e quindi la persona anziana poteva avere il rischio di essere rimbalzata da un servizio ad un altro. Quindi, a febbraio del 2022, abbiamo aperto diversi sportelli nel territorio, che in questo momento sono sei, insediati in cinque quartieri e nell'arco di più di un anno hanno accolto circa 1100 richieste. La maggior parte di queste è della popolazione anziana. Come si accorgono gli anziani che esiste questo servizio? Perché spesso magari non si sa che se uno non ha figli, non ha nipoti, che c'è un'opportunità, perché effettivamente ci sono molte pratiche burocratiche che ormai si fanno solo in forma digitale. Ancora tantissimi anziani hanno solo il telefono, quello non lo smartphone, e in questo modo sono tagliati fuori. Cioè come si arriva a segnalare che esiste il servizio? Perché spesso anche nella nostra esperienza giornalistica troviamo persone che non sanno che esistono i servizi, no? E quindi bisogna comunicare in primis che c'è questa possibilità. Esattamente, questo è un tema cruciale, proprio l'essere raggiungibili, l'essere conosciuti. Un grande aiuto ci è stato dato al Comune di Padova, perché essendoci questa convenzione, diverse persone che andavano a fare lo speed nei punti gratuiti venivano rinviate al nostro servizio per l'attivazione successiva e da lì è stato uno strumento per farci conoscere, per far vedere che comunque potevamo anche offrire l'altro e collegarlo agli altri servizi delle ACLI interni oppure anche esterni del territorio. Da lì poi il tempo ha fatto il soccorso, per cui anche il passaparola, i legami che sono creati con gli operatori e anche un lato molto positivo è il fatto che comunque è un servizio all'interno del sistema più ampio delle ACLI, per cui tra l'accoglienza, la conoscenza degli operatori, del patronato e di CAF che vedono una platea molto ampia di utenti, ecco allora che anche quello è stato un aggancio molto importante. Quanto c'è anche voglia da parte delle persone anziane di imparare il mondo digitale, di essere formati, no? Perché molti magari delegano e non ne vogliono sapere, ma sono sempre di più invece le persone che vogliono imparare anche loro a usare gli devices. Sì, ecco, anche questo è un tema interessante, perché vediamo proprio atteggiamenti diversi. Vediamo chi è terrorizzato, dall'idea comunque soltanto di aprire il telefono e non ne vuole sapere, proprio mette in atto delle resistenze e altri invece magari con un'età un pochino più bassa, sempre anziani un pochino più bassa di età, invece sono comunque, vorrebbero approfondire di più, vorrebbero essere non un peso per la famiglia, perché magari chiedono i nipoti, chiedono i figli e anche per loro insomma sapersi muovere con autonomia e l'obiettivo che come sportello noi ci prefiggiamo come progetto in generale è proprio quello di accompagnare la persona da accedere, ma allo stesso tempo di dare una mano in modo tale che possa acquisire delle conoscenze, delle competenze e procedere a un'autonomia. Attraverso il vostro sportello riescono anche magari a intercettare quali sono i rischi della rete, il fatto che non bisogna rispondere alle email, evitare quelle che sono le truffe online, che adesso non è solo una questione anagrafica, è solo una questione di abitudine e attenzione. Sì, anche quello diventa un'occasione di promozione, assolutamente, di attenzione a determinati aspetti, però allo stesso tempo quello che noi cogliamo in modo molto significativo, non soltanto da parte di anziani, ma di altre persone che accedono, è la manifestazione di altri tipi di bisogni. Quindi tramite una pratica, tramite la domanda di un bonus particolare, con una modulistica, ecco allora che lì si apre una finestra su alcune vulnerabilità della persona e delle famiglie che noi cerchiamo di accogliere e poi appunto di una presa in carico, rinviando ai servizi del territorio o ai nostri servizi. Quindi siete una sorta di front office sociale, che con il pretesto di una carta burocratica uno scopre, e questo non solo per gli anziani, magari un disagio, un bisogno, che ci può essere all'interno di una famiglia o di un nucleo. Sì, ci piace definirci, diciamo, come attività di segretariato sociale ad ampio spettro e questo rapporto che ha evidenziato è molto importante anche perché nel momento in cui noi entriamo con degli anziani che ci mostrano delle vulnerabilità legate ad esempio a una malattia, un lutto, una situazione di solitudine, ecco allora che riusciamo ad accompagnarli ad accedere a un altro servizio molto importante delle ACLI e della Federazione Anziani Pensionati che si chiama PASSO. PASSO è uno sportello di supporto, di ascolto e orientamento dedicato alla terza età, composto da un'equipe multidisciplinare fatta di psicoterapeuti, coordinatore, assistente sociale, che sono io, e che vogliono accompagnare l'anziano nelle fasi fragili della propria esistenza, incoraggiando però la sua partecipazione attiva alla comunità e anche iniziative di aggregazione in diverse modalità, come ad esempio chiamate di supporto, ci sono dei volontari fantastici che ci danno una mano nel contattare le persone seguite tenendo bene in mente comunque tutto l'aspetto relazionale, cogliere le fragilità se stanno bene, se non stanno bene, le psicoterapeute che accompagnano tramite percorsi individuali e colloqui e poi anche dei gruppi di automutuaiuto, i cosiddetti gruppi AMA che rappresentano dei momenti bimensili per questi anziani passare un pomeriggio, una mattinata in compagnia dove hanno possibilità di raccontare le proprie giornate, parlare di diversi temi che li riguardano in un clima di rispetto e proprio di sereno insomma. Iniziative decisamente nobili, iniziative che sono un messaggio anche di speranza per le persone di una certa età, ma quanto riuscite a intercettare, cioè che effetto riuscite ad intercettare di persone che ha necessità? Perché poi anche no, tutte le varie associazioni di volontariato hanno tantissime iniziative, ma è come se non bastassero mai, no? E siete di supporto indispensabile a quelli che possono essere i servizi territoriali pubblici che altrettanto non ce la fanno. Parlando di Padova, se si può fare una stima di copertura di chi ha necessità attraverso anche questo percorso di supporto, perché anche molto spesso si sente dire sì, c'è questo, però è un numero limitato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se Insieme Digitali riesce a raggiungere un numero più vasto di persone, anche perché talvolta l'aiuto può essere più immediato, il passo dal 2018 ad oggi ha contato una presa in carico della persona circa 100 persone, ma non sono 100 accessi, sono 100 percorsi di aiuto e monitoraggio, per cui è un intervento che è limitato, nel senso che quelle sono le risorse e anche perché il tempo che si dedica all'altro è un tempo importante, quindi sicuramente quello che noi raccogliamo ad oggi è che la necessità c'è, perché non ci mancano le richieste, assolutamente, e anche perché vediamo che a seguito del periodo post-pandemico questi anziani si sentono ancora più fragili, la loro rete è cambiata, i loro supporti anche, e allo stesso tempo proprio la condizione di viversi nella società, anche tutto l'aspetto delle patologie è cambiato, per cui sicuramente quello che noi ci auspichiamo è quello di continuare a fornire dei servizi di questo tipo, perché li consideriamo importanti, raccogliendo i bisogni e le necessità degli anziani ma nella popolazione e facendo proprio da, essendo osservatori privilegiati, perché entriamo in contatto con l'altro, di far presente alle istituzioni pubbliche questi tipi di bisogni, in modo tale da poter fornire insomma degli interventi efficaci in questo senso. La pandemia ha strappato anche molti amici agli anziani sopravvissuti, questo è anche un dato di fatto, un colpo solo ha azzerato, sì, e quindi forse anche l'anziano si sente un po' come il sopravvissuto di un gruppo che è andato via magari quasi contemporaneamente, e quindi forse questo anche crea un senso di paura, un senso di incertezza. E anche un senso di solitudine, un senso di solitudine l'abbiamo visto tanto anche quando li abbiamo aiutati a fare la domanda per i soggiorni climatici, ci hanno detto che comunque la loro compagnia era cambiata, erano mancate diverse persone, dall'essere abituati ad andare al mercato e trovarsi con l'amica o trovarsi anche con quella persona per fare due chiacchiere. Abbiamo proprio visto, ci stiamo rendendo conto che è proprio cambiato un po' il tessuto, il tessuto relazionale di queste persone. E quindi, sì, quello che, insomma, come sportello basso insieme ai digitali cerchiamo appunto di lavorare tutto il tema del contrasto alla solitudine, perché consideriamo, e lo dicono anche le ricerche, la relazione con l'altro, l'avere buone relazioni è un principio fondamentale che permette una buona qualità di vita. La società civile come può darvi una mano, come può implementare l'ascolto, l'osservazione, la compagnia di queste persone che hanno bisogno, perché poi alla fine non credo che sia solo una questione sicuramente legata agli anziani, ma ci sono anche tante persone sole di varie età, sempre anche in conseguenza, magari anche persone sole che non sono riuscite del tutto ad accettare la pandemia che ha creato un senso appunto di terrore. Esattamente, la vulnerabilità tocca a tutti, tocca a tutti noi, famiglie, singoli, anziani, tutti. Quello che noi possiamo fare come società è incoraggiarci nel prestare attenzione all'altro. Può essere il bar del paese, può essere il barbiere di fiducia, essere comunque nella nostra vita di tutti i giorni sentinelle in questo senso, cercando di cogliere le situazioni di vulnerabilità e dare spazio di parola. Questo è un piccolo gesto che tutti noi possiamo fare per provare a star vicino all'altro, fare due chiacchiere, eventualmente poi capire che cosa c'è nel territorio e provare a raggiungerlo, insomma. Quindi essere meno individualisti e aprissi al prossimo. Il nostro, insomma. Quello che ci auguriamo, insomma, per tutti. Lei è giovane. Che messaggio da giovane può dare in quello che state vivendo? Perché poi, soprattutto anche voi giovani, avete vissuto in una fase di crescita formativa un qualcosa che indubbiamente probabilmente ha un impatto molto più pesante sul vostro percorso progettuale, no? Che magari che è già più adulto, sì, ha subito uno stop, ma più o meno quello che doveva fare l'aveva già fatto. Ecco, che momento stiamo vivendo? Parlando con gli occhi e con lo sguardo di una persona giovane. Allora, il mio sguardo da persona giovane è costruire questa progettualità. Una progettualità che forse tra pandemia e difficoltà è bloccata. E quindi fare in modo, insomma, l'augurio è che ciascuno, più anziano, meno anziano, quello che è, i giovani, possono partire da una progettualità. Quindi di pensarsi in un futuro come, in che modo, da costruire, si prova a costruirlo anche un po' insieme, insomma. Perché il futuro è oggi e siete voi. Io vi la ringrazio. Ringrazio Francesca Scudiero. Ringrazio anche Massimiliano Monterosso. Sono stati due ospiti di questa mattina che ci hanno illustrato quelli che sono alcuni dei progetti di Aclipa. Dovai? Io ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina e vi do appuntamento a domani. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.